Ciao a tutti! Oggi vorrei parlare di quanto è importante utilizzare un buon latte detergente e di quanto è facile e veloce lavare il viso con l'utilizzo di un buon prodotto. Il latte detergente è questo qui, nella versione piccolina, che mi è arrivato con il box di Natale, e si utilizza come un sapone. Ora andiamo a utilizzare il latte detergente come un sapone e come una crema. Strufinando bene sugli occhi, come un sapone, invece di utilizzare il sapone, e sciacquando bene il viso, come siamo abituati a fare. Sciacquiamo bene. Ed ecco qui che con un solo gesto vi faccio vedere come tutto il make-up, il mascara, l'eyeliner, il trucco sugli occhi, il fondotinta, il trucco sulle sopracciglia, se ne è andato tutto con un semplice risciacquo del viso. Per farvi vedere bene, non c'è nessun residuo, l'asciugamano non è bianco, ma non c'è nessun residuo, e questo è veramente alle basi di una pelle sana. Il latte detergente deve essere buono, quindi volevo condividere con voi la mia esperienza con il latte detergente del self-cosmiceutica. Spero che il viso sia utile. Ciao a tutti! Effettivamente la pelle è morbida, come se avessi utilizzato una crema, ma ancora non ho applicato nulla. Meraviglioso. 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 . Grazie a tutti.